Ciao ragazzi, sono qua a Mobile World Congress 2017, stand Honor-Huawei in compagnia dell'Honor Magic, terminale che è destinato solo al mercato cinese però faccio un video perché il telefono è veramente bellissimo quindi merita di essere visto anche un attimo in video allora, diciamo subito le dimensioni 14,5 cm, 6.9 cm, 7.8 mm lo spessore, 140 grammi dual sim allora, bello da tenere in mano, vetro avanti, vetro dietro fotocamera qua, come vedete, adesso vi leggo un attimo le caratteristiche, scusatemi dual fotocamera da 12 megapixel f2.2 e 8 megapixel quella anteriore video in full HD, abbiamo il processore iSilicon Key 950 con Mali-T880 MP4, mi sembra MP8, vediamo, scusatemi MP4, ok 64 giga di memoria, 4 giga di RAM non è espandibile allora, ok, vi ho letto le caratteristiche parliamo un attimino del design è veramente bellissimo, è un po' una saponetta con il frame in alluminio ma come vedete è strondato da entrambi da entrambi i lati è simmetrico praticamente qua abbiamo lo speaker con l'ingresso per le cuffie è veramente sottilissimo nella parte centrale si allarga un po' è super scorrevole il display è un quadro HD AMOLED è veramente bello alla vista sembra tutto un unico vetro è un telefono fantastico ragazzi devo dire che veramente sono quasi estasiato da questo design particolare bello anche il bello anche, scusatemi il modo per tornare indietro qua abbiamo un tasto con il brand digital si prende per tornare alla home doppio clic per chiudere le applicazioni però se noi apriamo, non so, clock non c'è il tasto indietro bisogna fare uno swipe sul tasto veramente interessante quindi, non so, quasi quasi cercherò di trovarlo per prenderlo per me per un po' perché merita in ogni caso, ecco, vi ho fatto vedere veramente un bellissimo device quindi per questo video è tutto lasciate un like commentate, iscrivetevi continuate a seguirmi ci vediamo nei prossimi video un saluto da Lorenzo per l'Esperienza Mobile ciao